E rieccoci ad un'altra tappa targata Mixer Village, è il momento della birra, della birra Forst, ma chi l'ha detto che chi lavora ai piani alti non desideri proprio essere in prima linea il protagonista, ovvero lo spinatore della birra? Allora, che significato ha la vostra presenza qua a Mixer Village? Per noi è importantissimo, la fase della spillatura è quella che noi ci teniamo di più a fine di garantire una qualità del prodotto, quindi tutti, da chi lavora in produzione a chi lavora nelle vendite, ci divertiamo a cercare di spillare al massimo questo prodotto. Una battuta sul mercato, nonostante la crisi, insomma, sembra che ne stiamo tutti più o meno uscendo, come Forst ha vissuto gli ultimi due anni? Ma noi fondamentalmente è la qualità quello che, come dire, noi abbiamo sempre sostenuto come concetto e su questo stiamo lavorando, abbiamo sempre lavorato e devo dire che i prodotti di qualità stanno tenendo molto bene, anche nei momenti di crisi. Non ci resta che bere? Esatto. Come si dice nella terra madre della birra Forst, ovvero l'Alto Adige e non solo, come si dice ormai in tutto il mondo e in tutta Italia, beh, prosit. Come si dice ormai in tutto il mondo e 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 in tutto il mondo.